9 settembre 2021 A voi che ascoltate, io dico Dal Vangelo secondo Luca capitolo 6 In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli A voi che ascoltate, io dico Amate i vostri nemici Fate del bene a quelli che vi odiano Benedite coloro che vi maledicono Pregate per coloro che vi trattano male A chi ti percuote sulla guancia Offre anche l'altra A chi ti strappi il mantello Non rifiutare neanche la tunica Dà a chiunque ti chiede E a chi prende le cose tue Non chiederle indietro E come volete che gli uomini facciano a voi Così anche voi fate a loro Se amate quelli che vi amano Quale gratitudine vi è dovuta Anche i peccatori amano quelli che li amano E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi Quale gratitudine vi è dovuta Anche i peccatori fanno lo stesso E se prestate a coloro da cui sperate ricevere Quale gratitudine vi è dovuta Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori Per riceverne altrettanto Amate invece i vostri nemici Fate del bene E prestate senza sperarne nulla E la vostra ricompensa sarà grande E sarete figli dell'Altissimo Perché Egli è benevolo verso gli ingrati E i malvagi Siate misericordiose come il Padre vostro è misericordioso Non giudicate e non sarete giudicati Non condannate e non sarete condannati Perdonate e sarete perdonati Date e vi sarà dato Una misura buona, pigiata, colma e traboccante Vi sarà versata nel grembo Perché con la misura con la quale misurate Sarà misurata voi in cambio Quando ci troviamo di fronte a questi comandi di Gesù Tutti rimaniamo sconcertati Perché richiedono di non opporsi al malvagio Né con azioni E nemmeno con il sentimento del cuore Anche l'intimo deve corrispondere All'azione di benevolenza del malvagio Che mi opprime Mi colpisce Mi offende Mi deruba Mi inganna Mi truffa Mi rende la vita amara A volte la toglie Lottiamo contro il senso di ingiustizia Che la legge di Gesù Sembra quasi buttarci addosso Non si tratta però di giustizia Ma di salvezza per noi Gesù ci indica la condizione per essere tolti da un mare di oscurità Che non permette di riconoscere con chiarezza Quanto siamo coinvolti dal male Quanto siamo coinvolti dal male Quando noi ci opponiamo al malvagio Restituendo lo stesso male Desiderando la vendetta In questo noi diventiamo giudici Spesso però cadiamo nell'errore di pensare Che il giudizio corrisponda alla valutazione del male Cioè al discernimento Una cosa è valutare il male Un'altra è la condanna della persona Tale errore Porta alla paralisi della ragione E alla perdita della facoltà valutativa del bene e del male Che dobbiamo invece sempre mantenere desta Questo giudizio è il discernimento Di cui ci dice anche San Paolo L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa Senza poter essere giudicato da nessuno Chi infatti ha conosciuto il pensiero del Signore In modo da poterlo dirigere Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo Ora occorre avere la mente di Cristo Cioè il suo spirito per giudicare E questo non riguarda il giudizio delle persone Ma delle cose di Dio Si tratta delle realtà spirituali Che dà luce alle cose della Terra Solo in questa luce noi possiamo comprendere Il mistero del bene e del male La situazione di peccato In cui l'umanità è immersa E per questo non ha la capacità autonoma Di vedere e capire La tenebra spirituale causata dal peccato Avvolge il mondo Ed il nostro atteggiamento di giudizio Di relazione con il prossimo Riguardo al male È frutto dello spirito del mondo Solo un occhio che vede con la luce superiore Comprende questa ragione di Dio Che impone di non opporsi al malvagio Ma di essere fortemente nemici del male La distinzione tra malvagio e male in sé È quella operazione di discernimento spirituale Che noi difficilmente sappiamo fare Il male esiste fuori dall'uomo E mosso dal maligno Ma esso ha infettato il cuore dell'uomo Per cui il male è anche dentro di noi Gesù dice chiaramente Che ogni male viene dall'interno dell'uomo Un cuore infettato dal male Non può giudicare con lo spirito di Dio L'azione del giudizio del prossimo Che proviene dall'avversione e dall'odio Forse anche per il male ricevuto Ha come radice l'offuscamento tenebroso Dello spirito del male Che agisce in noi E proviene dall'interno del nostro cuore Il rifiuto di questa realtà di tenebra Si attua Eseguendo il comandamento di Gesù In tal modo il cuore Può essere purificato Poiché la nostra volontà Resa cosciente Cioè illuminata Scegliendo il bene E risettando il male Può essere guarita da Cristo E resa stabile nel bene Dunque anche se non comprare Comprendiamo tutto subito Lo sforzo di rigettare questi peccati Ci mette nella condizione di comprendere E di chiedere la purificazione del cuore Che solo Cristo può fare Se comprendo che l'odio Che chiamo giustizia È condivisione del male Allora io fuggirò come si funge il demonio Per essere invece parte di Cristo Della sua mente E del suo amore Dio vi benedica